L'Ufficio Nazionale di Investigazione Finlandese ha affermato di aver ricevuto informazioni preliminari secondo cui alcuni criminali in Finlandia potrebbero aver preso possesso di armi militari come i fucili d'assalto destinati alle forze ucraine. Armi spedite da diversi paesi in Ucraina sono state trovate anche in Svezia, Danimarca e Paesi Bassi, ha detto alla stazione radio il sovrintendente investigativo dell'Ufficio Nazionale di Investigazione Christer Aylgren. I media internazionali hanno riferito che l'Agenzia Europea delle Forze dell'Ordine Europol ha previsto che bande criminali nascondano armi nelle loro aree di confine. La scorsa estate Europol ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la proliferazione di armi da fuoco ed esplosivi in Ucraina potrebbe portare ad un aumento del traffico di armi da fuoco e munizioni nell'Europa Unita attraverso itinerari di contrabbando consolidati o piattaforme online. Abbiamo visto segni di queste armi che hanno già trovato la loro strada in Finlandia, ha detto Aylgren. L'Ufficio Nazionale di Investigazione non ha rilasciato ulteriori dettagli sul traffico di armi in Finlandia, affermando che le indagini sono in corso. Tuttavia, secondo Aylgren, le rotte e i contatti per il traffico illegale di armi dall'Ucraina alla Finlandia sono già in atto. Tre delle più grandi bande di motociclisti nel mondo, che fanno parte di organizzazioni internazionali a larga scala, sono attive in Finlandia. Una di queste è Bandidos MC, che ha un'unità in ogni grande città ucraina, ha spiegato. Sappiamo che i contatti e gli itinerari si stanno riscaldando in modo che siano già sul posto. Dopo la guerra in Jugoslavia, i paesi balcanici si sono occupati del traffico illegale di armi. L'Ucraina ha ricevuto un grande volume di armi ed è un bene, ma ci occuperemo di queste armi per decenni e ne pagheremo il prezzo qui, ha detto Aylgren. Ha anche sottolineato che la guerra in Ucraina ha creato più lavoro per le forze dell'ordine, ma questo non si è tradotto in ulteriori finanziamenti per la polizia, secondo un rapporto del governo pubblicato lo scorso febbraio. La polizia, ad esempio, ha il compito di seguire un numero crescente di avvistamenti di droni vicino alle infrastrutture cruciali. Chi decide ha dimenticato che la guerra in Ucraina ha anche aumentato il lavoro di polizia, ha detto, alludendo ai punti d'ingresso finlandesi. Oggi i controlli di sicurezza sono obbligatori per il personale aeroportuale, ma screening simili non sono richiesti per i lavoratori portuali, offrendo ai criminali una via d'uscita nei porti finlandesi, secondo Aylgren. Le organizzazioni criminali hanno le loro reti nei porti commerciali finlandesi. Fermare tutto questo è nell'interesse di chiunque. Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crociolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi e le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Libere!